Buonasera amici di Sportme, quest'oggi al centro sportivo Giovanni Paolo II va in scena la prima giornata della Trinacria Cup. Si affrontano la Farao FC e la Royal Academy. Allenatore, presidente della Farao FC Domenico Cacia che avrà a disposizione dell'Acqua, Abate, Diddio, Foti, Mazzullo, Lipari, San Filippo, Micari e Acquaviva. Risponde la squadra di Trischitta e Morabito con Guglielmo, Crisafulli, Morabito, Sottosanti, Surace, Amato, Famoso, Terzi Lombardo, Fama e Carello. Presente anche il presidente Marco Contarino. Parte subito forte, in questo caso la Farao FC con Carello. Carello la mette in mezzo per Morabito, alto! Ancora Carello, c'è spazio sul settore di destra per Morabito, se la sposta sul mancino calcia dell'Acqua in due tempi, Guglielmo, Morabito, ancora per Guglielmo sul fondo. Famoso, c'è spazio sul settore di destra, Morabito la mette in mezzo dell'Acqua in corner, famoso, Morabito, calcia col mancino dell'Acqua, salva ancora. Lombardo arriva prima in questo caso, vuole metterla in mezzo dalle parti di Morabito, Morabito, tacco, Carello, libera in qualche modo la Royal, ancora però Morabito vuole qui andare avanti, lo fa numero dell'Acqua, Carello non prende però qui in questo caso la porta. Famoso, intercetta, si autolancia da solo, calcia col destro dell'Acqua, la fa sua, attacca la Royal, pallone che arriva l'Ipari che ci prova sul fondo però. Pallone messo in mezzo dalla destra, non riesce il tocco vincente al centro. Carello, Morabito, ancora Carello, calcia sul fondo. Punizione Royal, ci prova San Filippo da fuori, non c'entra però lo specchio. Sottosanti, sbaglia l'uscita, Mazzullo semina il panico, ancora Mazzullo, miracolo di Fama, doppio miracolo di Fama, si rimane sullo 0-0. Utilizza la prima carta della serata la Royal Academy. Doppio rosso, fuori Morabito e Fama per 5 minuti. Carello, insiste, calcia sul fondo, shout out per i Farao, all'uno contro uno, si presenta Guglielmo. Calcia col Mancino e spiazza dell'Acqua, vantaggio per la Farao FC. Fama di testa, vuole lanciare Morabito, ancora Morabito, ci prova col Mancino, non c'entra la porta. È il momento del dado, esce il 5, dunque si va di 5 contro 5, compreso il portiere, per altri 5 minuti. Lipari, in questo caso cerca Mazzullo, va col destro, Mazzullo ci prova, non c'entra la porta, sciupa. Ancora Mazzullo, attacca sul settore Mancino, vuole fare tutto da solo, calcia e trova in questo caso il gol del pareggio. Mazzullo, splendida la giocata del numero 10. Carello, c'è spazio sul settore Mancino, la mette in mezzo per Morabito, tutto solo dell'Acqua, grande salvataggio. Termina poi con questo tiro da fuori, il primo tempo. Va via in questo caso Guglielmo, ancora Guglielmo, c'è Lombardo al centro, Lombardo calcia dell'acqua, miracolo, ancora Guglielmo. E Lombardo non può sbagliare da lì, nuovo vantaggio. Chiama a questo punto il rigore presidenziale della Royal Academy, va dal dischetto Caccia, che segna e firma il gol del pareggio. Ci prova in questo caso Lombardo, insiste dell'acqua, la fa sua, attacca la Royal, San Filippo, poi Mazzullo col Mancino. Firma il vantaggio per la Royal, con questo splendido sinistro di Mazzullo. Rigore presidenziale per la Farao FC, rincorsa col destro, gran parata di dell'acqua. Utilizza a questo punto la carta Bomber, la Farao FC. Guglielmo cerca sul settore Mancino, Carello, ancora Carello, va via col Mancino! E trova uno splendido gol, la rete del pareggio, il numero 95. Nuova carta ad usarla, stavolta è la Royal, cambio dunque forzato in porta per la Farao FC, che è costretta a mettere tra i pari Carello dell'acqua. Sbaglia e rinvio, Guglielmo, Guglielmo riceve e spacca la porta. Il numero 7 e 4 a 3. Pallone messo in mezzo, qui per Fama dell'acqua, gran parata, poi Guglielmo rimpallato, si salva in qualche modo. La Royal ritorna in porta, intanto in questo caso sotto Santi. Servito qui in ottima posizione, Morabito che controlla e segna un altro gol, il numero 10. E nuovamente il momento del dado, per la seconda volta di fila esce il 5, dunque sarà 5 contro 5 per i 5 minuti finali. Recupera palla qui, Mazzullo che guadagna fallo. Si presenta per la punizione Foti, che trova un gran gol. Foti il numero 8. Foti insiste, pallone che esce, ma per l'arbitro è tutto regolare. Ancora Foti, la mette in mezzo, sfera che arriva all'Ipari, che di esterno segna il gol del pareggio, 5 a 5. Ci sarà da discutere per questo gol. Riconquista qui Morabito, ancora Morabito, c'è Guglielmo tutto solo. Guglielmo col mancino, il numero 7. Porta nuovamente avanti i suoi, grande intesa tra il 10 e il 7. Chiamano schema qui, Mazzullo riparte però la farà OFC. C'è spazio per Guglielmo. Ancora Guglielmo, la porta è vuota. E segna il gol del 7 a 5, Guglielmo. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro. Vince la farà OFC. 7 a 5 e debutta dunque in questo torneo con una convincente vittoria.